Io porto solo una tv, capite cosa intendo? Stavolta ho il tunnel carpale, ho pensato, porto 500 tv. Che ne dici di comprare questa bellezza? Puoi averla subito per 450 tv. È un tipo che è un osus, ma porta merce potente, perciò ci piace fare affari con lui. Faccio sempre una tv. Caa- Cavolo, il polpo. Vieni qui, vieni qui. Ti ringrazio, sai ho una tv, grazie davvero. Hai portato una tv che ha una tv sullo schermo. Ma di che pale? Quella tv che ha... Non è niente. Crepa. Eh no? Beh, visto che c'è la crepa facciamo 300 eh. Svada! Non ti do proprio niente, non la compro. È fuori di testa, la tv è tv, lo sa che è crepa. Non è niente, perché non attacchi la spina e lo vedi? Funziona, non è? La qualità dell'immagine è perfetta cavolo. Proviamola, vediamo. Grazie. Accendila. Forza, controlla. Vieni qui, vieni qui. Aspetta un attimo. Aspetta. Aspetta, ora arriva. Vieni qui. Crepa. Mio figlio potrebbe morire. Accidenti. Is nè di s-